Il primo incidente era in 1973, tu eri 25 anni. Qua vecchia era la vittima? Era 10. Diciamo cosa è successo. Abbiamo conosciuto tutti Stephen Collins in Settimo Cielo, in cui interpretava il padre, il prete, un uomo buono, gentile, dedito alla famiglia e alla sua comunità. Le persone si sono innamorate immediatamente di lui, però quello che non sapevano, fino a che tutto non è uscito allo scoperto, e che lui aveva uno scuro segreto. Aveva iniziato a sviluppare un'attrazione e un'ossessione per le ragazze minorenni, in particolare dai 10 ai 14 anni, già da quando era molto giovane. La facciata di brav'uomo di Stephen Collins, però, era appunto solo una facciata, perché dietro si nascondeva un vero e proprio predatore. Sigla. Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè. Stephen Collins, cioè Eric Camden di Settimo Cielo, me lo state segnalando da mesi, perché effettivamente in Italia era arrivata la voce, ma sempre in maniera un pochino generale. In realtà lui è stato accusato proprio di essere una persona che ama particolarmente i bambini in modo sbagliato. Ripercorriamo tutto per capire come è stato scoperto, e soprattutto la rilevanza mediatica che invece ha avuto negli Stati Uniti, lui come figura, perché appunto lui, così come Bill Cosby, era diventato un papà d'America, ma purtroppo, come Bill Cosby, aveva un lato scuro. Prima di cominciare, la maglietta che indosso è di Pampling, con il codice sconto l'ora del tè avrete sul vostro ordine un paio di calze o calzini in omaggio. Vi lascio tutto in descrizione, perché non c'è niente di più bello a Natale che ricevere una maglietta con i gattini. Così vi do un consiglio natalizio. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo. Nipote del generale James Bedweaver, Stephen Collins è cresciuto a Esting-on-Hudson a New York, ha frequentato l'Ameress College dove si è laureato con l'Ode. All'università lui suonava il basso elettrico e la chitarra per diverse band rock and roll, e infatti era conosciuto all'interno della vita universitaria proprio per essere una rock star. La sua passione per la musica lo ha poi spinto a provare la carriera di Broadway. Infatti lui non comincia come attore televisivo, ma comincia a Broadway, a New York, dove si fa un nome. Infatti lui avrà una lunga carriera a Broadway prima di buttarsi in televisione. Quando era piccolo tuttavia, all'età di 10 anni, Stephen Collins racconta di aver subito un abuso. Lo racconta in un'intervista del 2014 a Katie Couric, in cui appunto dice che questa sua amica di famiglia, cioè amica dei suoi genitori, questa signora si denudava davanti a lui che aveva 10 anni. Lui nell'intervista, e qui poi ci torniamo, dice che non si è mai sentito una vittima. Cioè lui dice a me poteva andare peggio, quindi io non mi definisco una vittima. Era sicuramente un comportamento inappropriato per un adulto, ma non mi sono mai sentito una vittima. E perché vi dico che poi ci torniamo su questo? Perché adesso ascoltate la storia. Quindi quello che raccontavano tutti era che Stephen era una persona molto gentile, molto cordiale, veramente una persona educata, come si usa per i serial killer, salutava sempre. Però quello che la gente non sapeva è che lui già da quando aveva più o meno 25 anni ha iniziato a sviluppare una vera e propria ossessione malata per ragazzine, soprattutto dell'età che andavano dai 10 ai 14 anni. Nel 1973, all'età di 25 anni, dopo essersi fatto un nome nel mondo di Broadway, ha iniziato ad interessarsi ossessivamente ad una ragazzina di 10 anni, parente della moglie dell'epoca, Marjorie. Questa è la sua versione. Vediamo però la versione di questa ragazza, perché questa ragazza da adulta ha deciso di parlare. Mentre purtroppo il fatto che non sia mai stato perseguito è perché tutte le vittime erano piccole, spaventate, si vergognavano il classico tipico, non ci vuole sicuramente un genio a manipolare purtroppo dei bambini e quindi nessuno lo ha mai denunciato. Sono racconti che sono usciti dopo. Questa ragazza che all'epoca aveva 10 anni, lei racconta di essere stata un'amica di famiglia, la figlia di amici di famiglia di Marjorie, erano, da come ho capito, non ho ben capito se fossero proprio parenti, però questa ragazza spesso passava le notti a casa di Marjorie e quindi anche di Stephen, che all'epoca erano sposati. Ha detto che una notte ha sentito Stephen alzarsi dal letto, andare a farsi la doccia, uscito dalla doccia è entrato in camera sua completamente nudo. Le ha preso la mano, gliel'ha poggiata lì appunto dove non si dovrebbe poggiare e lei racconta di essere rimasta pietrificata dalla paura, quindi ha aspettato che il tutto finisse e poi ha cercato, fatto finta di dormire. Però a differenza di quello che racconta Stephen, lei dice che in realtà non è stato un singolo episodio isolato, bensì sono stati molti episodi che si sono perpetrati nel corso degli anni. Quindi lei racconta che spesso cercava di far finta di dormire quando Stephen entrava nella sua stanza proprio sperando che lui non le facesse nulla, ma questo solitamente non accadeva. Infatti, come dicevo nella intro, è successo un po' come per Bill Cosby. Non nessuno si aspettava una cosa del genere, perché lui era diventato veramente il papà d'America, aveva interpretato poi, anche quando poi è andato in televisione, interpretava sempre dei ruoli da brava persona, era sempre molto gentile, nelle interviste era educato, era sempre sorridente, quindi nessuno si poteva aspettare una cosa del genere. La sua carriera infatti continua indisturbata, nel 75 da Broadway passa ad essere scritturato per il suo primo film, Tutti gli uomini del presidente, accanto a Dustin Hoffman. Nel 76 poi ottiene un ruolo in Star Trek e nell'82 ottiene diversi ruoli, quindi si fa sempre di più conoscere all'interno del mondo di Hollywood, fa sempre più carriera. Nel 79 lui divorzia da sua moglie e nell'82 si fidanza con l'attrice Faye Grant, che dichiarò di essersi innamorata di Stephen proprio perché era un vero gentiluomo, dolce, gentile e amorevole. Ma quello che non sapeva era che Stephen cercava di reprimere il suo lato oscuro, che riemerse purtroppo quello stesso anno abusando di una ragazza di 14 anni. Il modus operandi è sempre lo stesso, cioè lui si fa trovare nudo, esattamente come a detta del suo racconto aveva subito lui quel tipo di abuso, cioè che sì, quella donna si faceva trovare nuda davanti a lui che aveva 10 anni, e lui ha ripreso questo schema. Quindi lui si fa trovare nudo e mette la mano lì dove non andrebbe messa, scusate il linguaggio ma siamo su YouTube. Nell'intervista racconta, perché lui lo dice, perché vabbè chiaramente ormai era uscito tutto allo scoperto, dice che lui ha fatto la stessa cosa con questa ragazzina, ma questa ragazzina si è spaventata talmente tanto che ha iniziato ad urlare, ha iniziato ad agitarsi, ad avere una vera e propria crisi di panico. e lui dice che in quel momento quando ha visto la ragazzina così spaventata è come se si fosse ripreso, è come se avesse capito che quello che stava facendo era sbagliato, cioè in quel momento. E quindi lui si è ripreso, ha lasciato andare la ragazzina, e da lì ha detto che ha cercato di reprimere sempre i suoi istinti, infatti da quel momento, prima che i suoi istinti tornassero fuori, passano ben 12 anni. In tutto questo la sua fidanzata non sospetta nulla e si sposano nell'85. Nell'89 lui e Faye decidono di adottare una bambina di nome Kate. Nel 94, tuttavia passati appunto come dicevo 12 anni da quell'episodio, Stephen non riuscirà più a trattenersi e quindi purtroppo tornerà ad abusare una ragazzina di 13 anni. Praticamente la ragazza che cosa racconta? Dice che lei era la nipote dei vicini di casa di Collins, che un giorno aveva visto, avevano proprio giardini adiacenti, quindi un giorno da casa sua aveva visto che Collins girava completamente nudo in giardino. E che quindi lei si era un po', c'era rimasta e ha detto ma è strano questo atteggiamento e quindi praticamente lo ha detto ai suoi zii. I suoi zii l'hanno un po' sminuita come cosa, hanno detto sì lo fa spesso, lui alla fine è un attore, un artista, poi un amico, una brava persona, evidentemente non si è reso conto che poteva essere visto da te, quindi lascia stare. Un giorno però che cosa succede? Che lei aveva preso, aveva questa console, la Tari, e si era rotta una presa, praticamente la presa che si attaccava alla televisione, quindi a un certo punto esce fuori, incontra proprio Stephen Collins e racconta a lui questa cosa dicendo eh sto cercando un modo per aggiustare la mia console perché voglio giocare. E lui le dice se vuoi ti vengo a dare una mano, vengo in casa e provo ad aggiustartela io. Siccome lei sembrava una persona gentile lo ha fatto entrare in casa ed effettivamente lui si è messo lì a cercare di aggiustare la console. A un certo punto lei si gira e si rende conto che lui aveva tutti i pantaloni sbottonati. Siccome però lui sembrava naturale, quasi come se non se ne fossi accorto. Lei non voleva essere maleducata, scortese, perché comunque lui stava continuando lì a cercare di aggiustarle la console. Non gli ha detto niente, ha cercato di non guardarlo da quella parte, insomma di guardarlo fisso negli occhi. E in tutto questo lui, con la patta aperta, ha continuato ad aggiustare la console e poi se ne è andato. Quindi, in quel momento lei dice ok, evidentemente forse gli si è slacciata e lui non se ne è accorto e io non gli ho detto niente per non metterlo a disagio. Ma poco dopo lui torna, le suona e le dice ti va di venire a casa mia a guardare dei cimeli, dei miei film, perché lui aveva degli oggetti di scena, dei giocattoli. Ha detto vuoi venire a casa mia a guardarli? E questo perché? Chiaro, tipico atteggiamento manipolatorio. Cioè, io comincio a vedere fino a che punto tu sei a disagio, faccio il gentile e non ti dico niente e alla fine ti invito a casa. È per questo che lui si è slacciato i pantaloni per vedere la sua reazione. Ha visto che lei ha fatto pinta di niente e ha detto ok, posso provare. Quindi lei purtroppo si fida e va a casa sua. Si siede sul divano e lui, Stephen Collins, le dice guarda, vado un attimo a mettermi comodo. Quindi sale in camera, torna ed era completamente nudo. Quindi che cosa succede a questo punto? Che lei chiaramente si pietrifica dalla paura. Racconta che era veramente spaventata. Lui le si avvicina e gli mette praticamente i genitali quasi davanti la faccia. A quel punto miracolo vuole che lei dalla finestra vede passare sua zia perché vi ripeto i loro giardini erano adiacenti. Quindi lei che cosa ha fatto? Appena ha visto sua zia è scappata via perché se lui l'avesse presa e lei avesse urlato la zia avrebbe sentito tutto e l'avrebbe colto in flagrante. Quindi effettivamente lui l'ha lasciata andare cioè lei ha preso e scappata via e lui è rimasto fermo. E ora arriviamo a come lo abbiamo conosciuto noi con Settimo Cielo. Perché nasce Settimo Cielo? Settimo Cielo che non so se ve lo ricordate era proprio cioè era una bella serie io me la sono vista tutta però venivi condannato perché magari bevevi un sorso di birra che quindi insomma era piuttosto puritana come serie e quella serie era nata proprio per questo perché la società americana che sappiamo che è molto 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 puritana si era stancata di vedere soltanto sesso e violenza dentro la televisione e quindi la stessa comunità aveva l'esigenza di guardare un programma che fosse puro durante gli orari familiari e per questo che è nato Settimo Cielo e hanno pensato subito a Stephen Collins per Eric Kandem proprio perché la società era convinta che lui fosse una persona meravigliosa cioè veramente quasi il figlio di Gesù e quindi lo hanno scritturato quindi lui ha fatto Settimo Cielo ed è lì che è stata proprio la sua consacrazione a papà d'America perché era cioè era davvero bravo a recitare infatti la parte infatti sembrava veramente una persona buonissima però a questo punto che succede? Sarà proprio la parte in Settimo Cielo a costargli caro nel senso che nel 2000 sua moglie Faye riceve una lettera anonima proprio da una delle vittime di Stephen Collins in cui racconta questa vittima racconta che non può più star zitta a guardare nel vedere che lui viene considerato dalla società come una delle persone più buone del mondo soprattutto anche interpretando un prede quindi dice io non ce la faccio più perciò mia cara Faye ti scrivo questa lettera per dirti che io sono stata abusata quando ero piccola e che tuo marito è un pazzo squilibrato lei che fa? chiaramente chiede spiegazioni a Stephen e Stephen dice no guarda evidentemente c'è stato un malinteso perché una volta appunto per sbaglio c'era questa ragazza in casa io ero appena uscito dalla doccia avevo solo l'asciugamano insomma si inventa una scusa come se fosse stato un malinteso e quindi dicendo la ragazza ha capito male ma questa diciamo confessione non convince del tutto Faye quindi dopo 12 anni di matrimonio iniziano i problemi e quindi che fanno vanno da un consulente matrimoniale Faye e Stephen e Stephen a un certo punto nel mezzo di questa consulenza matrimoniale crolla e confessa tutto cioè confessa di avere questa attrazione per le ragazzine tant'è che Faye rimane così e dice oh mio dio cioè senza parole e quindi Faye che cosa fa? finita la seduta va dalla polizia e lo va a denunciare quindi che cosa succede? parte l'indagine della polizia con la collaborazione di Faye perché la polizia dice fallo confessare in qualche modo quindi tornano a una seduta con appunto il consulente matrimoniale lei registra il contenuto della seduta e lui e cerca di farlo riparlare di nuovo di questa cosa a un'esercizio di una no 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 partial partial yes how did you talk to her what kind of things did you say the exposure happened a couple of times a couple of times you told me once no I said on the list it happened several times l'audio è trapelato al TMZ e chiaramente il mondo impazzisce tutti sconvolti da questa cosa è stato chiaramente immediatamente licenziato da produzione in corso la sua carriera è finita dopo questo e qui ci ricolleghiamo all'intervista che vi ho fatto vedere durante il corso del video perché vi dicevo che volevo parlarne ora questa è solo una mia opinione personale magari vi lascio l'intervista sotto in descrizione se volete andarla a vedere perché a me è sembrato come se lui avesse voluto usare questa intervista per ripulirsi però ripulirsi in una maniera forzata cioè lui secondo me non è veramente pentito di quello che ha fatto perché lui ha detto che adesso sta andando in terapia cioè che all'epoca andava in terapia perché aveva capito che questi istinti erano sbagliati e che quindi aveva trovato la fede nel Signore quindi era diventato molto religioso e Gesù lo stava aiutando a reprimere questi suoi istinti però lui ha raccontato questo episodio in cui lui era stato abusato esattamente come lui poi abusava delle vittime dicendo la frase io non mi sono mai sentito una vittima perché mi poteva andare molto peggio come se volesse sminuire la questione in modo che anche la gente sminuisse quello che faceva lui perché alla fine lui faceva quello si faceva trovare nudo e si faceva dare una toccatina cioè secondo la sua concezione perché chiaramente per me è assurda questa cosa come per tutti però lui l'ha manipolata in questo modo il che mi fa pensare che lui in realtà sia un abile manipolatore inoltre Faye ha rilasciato questa dichiarazione chiaramente ha divorziato da lui e ha rilasciato questa dichiarazione dicendo credo che Stephen abbia usato il suo status di celebrità per guadagnare la fiducia delle famiglie e dei bambini che ha danneggiato credo inoltre che ci siano state altre vittime anche se hanno confessato quelle tre ragazze penso che ce ne siano molte altre non è mai stato purtroppo perseguito nonostante la polizia abbia indagato per via del fatto che i reati sono caduti in prescrizione quindi è passato troppo tempo quindi che fine ha fatto Stephen che sta facendo adesso il Daily Mail dice che l'attore è caduto in disgrazia vive in una piccola casa dell'Iowa ha una settantina d'anni ed è sposato con una ragazza di 32 che era fan del programma di Settimo Cielo quindi conferma che in questi anni ha diciamo fatto terapia per cercare di reprimere questi istinti e questa è tutta la storia del tipo di Settimo Cielo intanto si è fatto notte infatti noi siamo circondati dal verde spero che la qualità del video non risentirà ho calcolato male gli orari di registrazione adesso che fa notte prima quindi ragazzi spero che questo video non vi abbia turbato particolarmente a me purtroppo sì perché a me Settimo Cielo piaceva e lui mi sembrava veramente un bravo signore ma purtroppo sappiamo come Hollywood continuiamo a spulciare e continuano tutti a deluderci quindi vi auguro un buon mattedì e noi ci vediamo giovedì ciao